Noi dobbiamo tutto e credo sia veramente meritato questo rilasciamento a chi giorno per giorno ha portato a tempo in questa meraviglia di Europa. Infine pone la sua firma sull'albo storico che rimarrà conservato. Io ho sempre dedicato il mio tempo a questa manifestazione e ormai mi sento uno che fa parte della famiglia del Margo. Per cui sono veramente felice e credo che ancora dedicherò i prossimi anni a cercare di mantenere questa leadership della manifestazione anche perché nel mondo una fiera come questa non l'ho ancora vista e questo non è grazie a me ma è grazie anche a tutti i miei collaboratori e grazie anche alle aziende che partecipano e che tutti gli anni mettono il massimo impegno per dimostrare quello che l'Italia sta a fare. Grazie Ho spaiato solo una cosa che vorrà mantenere, non devi mantenere, deve fare molto di più nella comanda E qua abbiamo delle attese importanti Allora, please have come to go on and you are kindly invited to our drink. Thank you Grazie Grazie.